ieri c'è stata la conferenza stampa qui vedete sean ray e bob ciccherillo sempre in forma che si mettono questi vestiti questi abiti un po strettini diciamo per le loro possibilità mettiamola così quindi la conferenza stampa come sempre abbastanza politica le correct a parte quello che ha detto fili che comunque ha aggiunto un po di di pepe mettiamola così con la sua consueta arroganza e mancanza di di umiltà e qui utilizzerò umiltà non come lo dico io per scherzare per chi non avesse capito io quando parlo di umile nobile scherzo è come quando dico ave ogni dato qualcuno non capisce è comunque brandon in vestito e occhiai da sole ci ha messo un po di umiltà dice che è grato di avere la possibilità di difendere il titolo contro un campione come come phil che in sostanza era un sogno a poter arrivare a questi livelli della sua carriera quindi molto molto umile e sincero invece film ci ha messo la sua arroganza dice che la sua sconfitta nel 2018 è stata la cosa migliore che gli sia capitata che vuole riprendersi il suo titolo che non gliene frega niente di brandon ma non nel senso che gli stia antipatico nel senso io sono qui per fare quello che devo fare a prescindere da chi c'è e dice che vuole collezionare sendo in sostanza perché ne ha tre diversi non so se sapete che le statuette cambiano nel corso degli anni e lui vuole un sendo ancora diverso quindi è molto molto determinato poi domani anzi oggi il 18 e il suo compleanno tassi di circostanze particolari e sembra davvero molto molto determinato molto poco umile nel senso della parola non dico arrogante però sembra molto molto sicuro di sé il suo obiettivo dichiarato è riprendersi il titolo ed è quello che che conta che conta di fare questo è quello che ha detto in sostanza phil a costo di sembrare arrogante come al solito però almeno ci ha messo un po più di pepe mettiamola così per quanto riguarda dexter ultimo mister olympia le uniche cose rilevanti che ha detto che non vede l'ora di smettere di mangiare sei volte al giorno perché non ne può più e non vedrà di ritirarsi e mangiare solo due tre volte al giorno dexter e la sua consueta death face molto poco da aggiungere su quello che ha detto dexter in sostanza poi per quanto riguarda altri bodybuilder ci sono bonac che sempre come sempre molto poco rilevante per quanto riguarda le altre persone ma ha detto che l'anno scorso ha gareggiato a 100 kg e quest'anno gareggerà a 106 kg non penso che possa vincere mister olympia però penso che possa fare molto bene e la gente dovrebbe parlarne un po di più come dico sempre quindi a me piace molto lo saprete bonac e anche lui è uno che non le manda a dire mettiamola così luci si infundo bigrami ha migliorato l'inglese questa forse la cosa più rilevante della sua conferenza stampa e poi ringraziamenti a gmaili non la mpc all'ipb pro che l'ha invitato e poi dice che questa è una cosa grave che non gareggia per se stesso ma gareggia per i fan e i giudici vogliono vedere un po più di cattiveria se non è quello è un po l'elemento che manca bigrami perché bisogna di un po più di cattiveria quando sai sul palco quando parla e non dico essere arrogante però un po più di anche egoismo nel senso gareggio per me e non solo per i fan anche per i fan ma gareggia per me e per vincere questo è quello che è mancato a bigrami quindi fatevi sapere che ne pensate buona insomma Grazie a tutti.